didattica e linguistica italiana, adesso la grammatica o linguistica italiana all'Università di Bologna e che è appunto una grandissima esperta proprio di grammatica vorrei dire dell'italiano, di problemi generali relativi alla grammatica dell'italiano e che si occupa anche di didattica, di deducazione linguistica, di formazione degli insegnanti e che ha un curriculum talmente ampio che non provo neanche a riassumere, ma appunto condivide con i nostri interessi moltissimi ambiti di ricerca proprio per questa capacità di muoversi tra la descrizione, la teoria e appunto anche le applicazioni di carattere didattico. Naturalmente anche le sue pubblicazioni sono amplissime, numerosissime e di nuovo non è possibile darne conto in modo esauriente. Vi ricordo solamente alcune pubblicazioni recentissime, il manuale di linguistica e di grammatica italiano che ha pubblicato insieme a Michele Prandi proprio nel 2019 per UTET, con Carocci sempre recentemente che cos'è la grammatica valenziale e di nuovo comprandi le regole e le scelte manuale di linguistica e di grammatica italiana. Ha anche un suo blog che si chiama che cos'è la grammatica valenziale oppure grammatica valenziale aiutami cristiana che è fonte di moltissime informazioni di interesse, che è un blog un po' divulgativo ma non sempre abbastanza divulgativo, direi che anche molto serio e poi tanti tanti altri lavori anche ripeto di tipo applicativo comunque rivolti alla didattica della lingua. Quindi sono felice di averla qui tra noi, sono felice di ascoltarla e sono sicura che godremo della sua lezione e impareremo molte cose. Grazie Cristiana, ti do la parola. Grazie mille, grazie di questo invito. Oggi mi vedrete in una veste un po' diversa da quella della studiosa di grammatica o comunque della divulgatrice anche ecco di teorie linguistiche che possono essere spese in ambito didattico. Sono tornata un po' a una passione giovanile, cioè lo studio della lingua letteraria, ricollegandomi addirittura con il tema della mia tesi di laurea che era dedicata alle varianti di un romanzo che aveva vinto il premio strega nel 1989, la grande sera di Giuseppe Pontigia. Pontigia è stato uno scrittore, ecco il libro appunto a cui ho lavorato e questo si chiama, poi insomma ne parleremo, si chiama Per scrivere bene imparate a notare. È un libro che raccoglie delle lezioni di scrittura. Giuseppe Pontigia è stato oltre che appunto scrittore, giornalista, collaboratore del Corriere della Sera, grande operatore editoriale, ha lavorato come consulente sia per Adelfi sia per Mondadori. È stato il creatore della prima scuola di scrittura creativa in Italia, nata nel 1985 a Milano. In questo libro ho raccolto alcune sue lezioni che erano apparse in forma scritta, una forma molto particolare perché è una simulazione di intervista, scusate se sentite abbaiare il mio caso in sottofondo. Erano apparse su una rivista all'inizio degli anni 90 che si trova Wimbledon che poi ha cessato le sue pubblicazioni. In effetti dei suoi corsi che erano durati per quasi dieci anni, Pontigia non aveva raccolto le lezioni sotto forma di dispense o di manuali di scrittura. Non l'avevano fatto per una ragione molto precisa che poi vedremo, perché lui credeva profondamente nell'oralità come veicolo primario dell'insegnamento e considerava la parola parlata irriducibile alla parola scritta. Aveva fatto ogni tanto dei tentativi ma lui stesso si era confrontato con l'impoverimento che il testo subiva nel passaggio appunto alla scrittura, cioè si perdeva gran parte di quello che lui riteneva di trasmettere durante le sue lezioni. Eppure è uscito in realtà, prima ancora del libro che io ho fatto, un altro libro che si chiama Dentro la Sera, anche di questo parleremo perché è un libro interessante per chi studia il parlato perché contiene un CD-ROM che raccoglie appunto queste conversazioni sullo scrivere che vengono da un'altra operazione che aveva fatto Pontigia in radio, sempre negli anni 90, per un ciclo che si chiamava appunto Dentro la Sera. Queste conversazioni radiofoniche sono state poi, adesso dovrei dire, trascritte anche se insomma è una trascrizione un po' sui generis e pubblicate però appunto nel 2016 e lo scrittore è morto nel 2003 quindi non sono state riviste dallo scrittore che in realtà pur facendo appunto molte molte conferenze e a volte accettando anche che i testi fossero pubblicati sotto forma di plaquette rivedeva sempre molto scrupolosamente i testi e finiva sapendo appunto che sarebbero diventati dei testi scritti finiva per riscriverli. Quindi in qualche modo questo libro tradisce un po' l'intenzione dell'autore anche se poi ha un fine molto nobile e appunto dal punto di vista dei contenuti è sicuramente molto interessante. Io però appunto ho voluto ripubblicare quelle lezioni che lui aveva licenziato proprio perché mi hanno permesso appunto di riflettere sulle diverse modalità e nel farlo ho cercato anche di contestualizzare dal punto di vista appunto storico il momento in cui sono nate perché uno scrittore a metà degli anni 80 decide di fare delle lezioni di scrittura espressiva come come dice lui e soprattutto per quale motivo inizia sempre le sue lezioni parlando dell'oralità. Poi appunto vi darò anche il link perché di queste diciamo conversazioni ci sono ancora i podcast che sono liberamente ascoltabili online quindi almeno le le conversazioni che ci interessano anzi io ho cercato questa mattina anche un po' di ritagliarle perché volevo farle ascoltare ma poi ho visto che perdevo talmente tanto tempo che ho detto beh vedremo se ci sarà tempo magari ne ascoltiamo un pezzo insieme e andrò avanti indietro insomma mi perdonerete un po' la mia imperizia. Allora vi dicevo ho cercato di ricostruire perché tra il lavoro di tesi e poi questo lavoro mi sono occupata più riprese di pontigia in particolare ho diciamo lavorato anche al riordino della sua biblioteca una biblioteca leggendaria era un po' diciamo tra la sua e quella di Umberto Eco si contendevano un po' al primato di chi avesse una delle biblioteche più ricche di Milano oltre 40.000 volumi e una grandissima sezione di questa biblioteca privata era dedicata agli studi di linguistica non c'era libro di linguistica che uscisse in Italia in Francia in Inghilterra insomma che Pontigia non possedesse perché aveva proprio una passione maniacale e addirittura c'era una sezione della sua biblioteca che era dedicata a un tema specifico il linguaggio autoritario. Aveva un progetto quello appunto di scrivere un saggio su questo tema per vent'anni porta avanti delle ricerche bibliografiche fa conferenze sul tema inizia a scrivere tutta una serie di appunti e il libro però insomma non non vedrà la luce ci sono alcuni c'è l'incipit che è stato poi pubblicato in una raccolta postuma di suoi scritti che si chiama il residence delle ombre cinesi. È un tema molto interessante quello del linguaggio autoritario perché tocca anche in questo caso lui ritorna sul sul tema del parlato e cioè sulla forza sulla potenza che ha la parola parlata la parola che fa autorità e ricostruisce anche storicamente diciamo i tre filoni della della parola autoritaria quindi da un lato la parola religiosa dall'altro la parola poetica e poi la parola diciamo della legge la parola giuridica per cui approfondisce tutti questi aspetti naturalmente partendo dall'antichità classica perché aveva una grandissima passione anche proprio da filologo classico è stato traduttore anche di opere dal dal latino e un profondo conoscitore appunto anche e della della letteratura greca allora da questo appunto a fondo no questo entrare nella sua nella sua biblioteca ho capito anche quanta importanza questo scrittore che diciamo ha sempre affidato anche la sua la costruzione del del suo lavoro della sua figura del suo stile alla scrittura quanta importanza desse alla parola parlata all'oralità e con quanta attenzione seguisse gli studi che proprio in quegli anni 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 da partire dagli anni sessanta perché lui inizia diciamo a lavorare lo vedremo nel nella redazione del verri la rivista fondata da luciano anceschi proprio all'inizio degli anni sessanta quindi dagli anni sessanta in poi lui segue vedremo gli anni sessanta sono gli anni del boom della linguistica in italia e lui pur diciamo facendo un altro lavoro legge costantemente segue il dibattito lo fa chiaramente dal punto di vista di uno di uno scrittore di uno scrittore che come tanti scrittori prima di lui anche questo rapidamente lo vedremo ha bisogno di una lingua bisogno di una lingua che sia duttile che sia autentica che assomigli alla alla lingua parlata pontigia uno scrittore milanese vedremo poi che la sua in realtà è una scelta dal punto di vista proprio stilistico che va che va già verso una medietà linguistica ma senza alcuna concessione né all'espressionismo né diciamo al all'eccesso di medietà che caratterizza altri altri esperimenti coevi il suo per un inizio da diciamo scrittore sperimentale si muove nella nella neovanguardia e anche la semplicità la chiarezza quasi classica della sua prosa rappresenta un punto di arrivo allora vi dicevo nel fare questo lavoro che ha comportato anche diciamo una parte filologica perché ho lavorato in archivio cercando di costruire le diverse versioni del testo mi sono confrontata anche con questa la fascinante storia diciamo linguistica e culturale di e di quegli anni e sentirete molto naturalmente parlare di di Tullio De Mauro che è stato un grandissimo protagonista di quegli anni e sentirete anche nomi magari più noti per chi si occupa di di studi di parlato magari meno noti per per altri perché e pontigi aveva poi la tendenza anche a scovare e degli autori che magari erano stati dimenticati non so giorgio fanno e la sua teoria sulle origini del linguaggio apprezzava molto anche marcel jus gesuita forse sicuramente meno meno conosciuto di ong ma insomma che in quegli anni anni con le sue teorie suggestive aveva contribuito a riportare anche l'attenzione proprio sulla sulla dimensione parlata anche nello studio dei dei testi sacri e sappiamo adesso che lo studio dei testi sacri è stato molto importante in quegli anni anche per esempio per la nascita della linguistica informatica e quindi ci sono sempre questi questi intrecci culturali in senso in senso ampio che a volte io stessa quando mi concentro sul sulla parte più tecnica della della studio linguistico tendo a trascurare quindi oggi diciamo vi farò fare una passeggiata una così una galoppata anzi perché un po un po' veloce in questi in questi anni che sono magari alcuni alcuni di noi ricordano almeno in parte ci sono anche c'è anche una protagonista ma forse più giovani ecco non non conoscono molto magari adesso c'è un ritorno degli anni 80 anche banalmente nella moda allora cerchiamo di capire che cosa è successo e perché in realtà sono successe cose che spiegano anche tante per esempio delle polemiche e linguistiche recenti allora vediamo un po se riesco ad andare avanti ecco allora la premessa necessaria come vi dicevo quando si parla di questi temi è sempre la diciamo la peculiarità della storia linguistica italiana la frammentazione politica la frammentazione geografica la tradizione scritto centrica che ha appunto caratterizzato la nostra storia e e chi si occupa poi di lingua letteraria a partire già dal insomma qui quello citato un articolo di epirandello della fine degli ultimi anni dell'ottocento prosa moderna citato il lavoro di mario lisalti ribiaggi la lingua e scena nel 1980 quindi sicuramente e vi dicevo chiunque si confronti con gli studi sulla lingua letteraria e con diciamo anche la consapevolezza metalinguistica degli scrittori che lavorano dopo l'unità d'italia incontra sempre affermazioni relative alla difficoltà di trovare una lingua praticabile dal punto di vista narrativo soprattutto nei dialoghi e questo problema è a maggior ragione sentito dagli dagli scrittori di teatro pirandello ecco qui dice che appunto la lingua italiana non esiste e dice dove trovarla dove si parla questa benedetta lingua italiana si parla o si vuol parlare nelle scuole e si trova nei libri direi che è abbastanza abbastanza eloquente sintetizza bene anche tutte tutte quelle ricerche e che poi de mauro nel nella sua storia linguistica dell'italia unita rimettere condurrà e mettere insieme per ricostruire tutti i tasselli di quella diciamo disunità linguistica che agli inizi degli anni 60 iniziava un po in realtà sembrava ricomporsi. Pirandello appunto ancora trovava la lingua italiana nei libri e attraverso i libri si sforzava di ricrearla attraverso una simulazione di parlato che quello che continueranno a fare gli scrittori vedremo ancora fino agli anni 80 vedremo poi appunto una testimonianza di Dacia Maraini che parla ancora di una lingua impraticabile in mezzo ovviamente c'è la polemica o meglio diciamo la nuova questione linguistica pasoliniana che di nuovo riapre il capitolo di quale lingua per la letteratura fondamentalmente ma segna un po' una svolta perché la questione linguistica acquista per la prima volta anche una dimensione non per la prima volta perché chiaramente anche dopo l'unità d'italia c'era anche il problema insomma posto da manzoni di una lingua per la scuola di una lingua per la società ma Pasolini che scrive oramai alle soglie degli anni 70 diciamo a un orizzonte sicuramente sociale e diverso allora scendo ecco la lingua teatrale è proprio quella che almeno per quanto riguarda gli studiosi cosiddetti linguisti italiani attira maggiormente l'attenzione vi ho citato prima il libro di Maria Elisa Alti e ribiaggi del 1980 ma già nel 1976 esce un articolo di Giovanni Nencioni che sarà anche a lungo un presidente dell'Accademia della Crusca che mette a foco questa distinzione insomma molto molto citata soprattutto appunto degli studiosi di linguistica italiana tuttora tra parlato 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 scritto e parlato recitato lo spunto appunto è una serie di studi che aveva condotto sul parlato teatrale di di Pirandello quindi sicuramente la lingua del teatro offre degli spunti di riflessione la lingua del cinema direi che sarà presa in considerazione più avanti mentre invece c'è già l'interesse per la lingua della televisione per il parlato televisivo da un lato c'è chi lo vede positivamente anche come scuola di lingua fattore unificante ovviamente il nostro De Mauro ma c'è anche chi vede nella nella televisione una cattiva maestra e naturalmente il riferimento è Umberto Eco e alla sua fenomenologia di Mike di Mike Buongiorno una posizione quella di Eco che ci fa capire in che modo venisse visto il parlato diciamo dalla pure dalla società letteraria come una semplificazione come una banalizzazione insomma fondamentalmente dice ecco parlato televisivo semplificato da Mike Buongiorno ma non era poi tanto un discorso diciamo ad persona dice realizza il massimo di semplicità avolisce congiuntivi le preposizioni subordinate riesce quasi a rendere invisibile la dimensione della della sintassi e così via quindi si rimprovera al parlato di non essere come lo scritto è tutto sommato di essere troppo semplice perché se non si deve fare sforzo alcuno sforzo per capire un testo parlato un discorso vuol dire che c'è qualcosa che manca ecco diciamo che è proprio una visione per difetto ecco come se ci fossero sempre delle se il parlato fosse qualcosa di lacunoso ed è una posizione che in realtà vedremo durerà a lungo e forse in un certo senso è ancora dura dura a morire ecco naturalmente sarà attentissimo poi alla dimensione del parlato anche televisivo ci tornerà a più riprese vi citerò anche un bel programma televisivo cui collabora con con de mauro nel 1973 che era proprio dedicato al parlare scrivere l'italiano quindi questo è poi scritto che è rimasto diciamo anche un po nella memoria culturale e sempre citato appunto magari più citato quel letto ma ecco stesso poi supererà anche perché approfondirà sul piano semiottico ecco la anche la sua la sua concezione poi naturalmente distinguerà tra paleo tv e neotv insomma molti altri discorsi ma qui mi interessava la sua testimonianza proprio come ehm voce di un'epoca e eh una voce che non è isolata perché eh questo l'ho scritto fenomenologia di Mike Bongiorno esce proprio sul verri esce nel 1961 all'interno di una rubrica che ehm Umberto Eco teneva sul verri che si chiamava proprio diario minimo quindi la sua posizione era condivisa da un gruppo di intellettuali che erano gli intellettuali della Novanguardia e vi dicevo all'interno della Novanguardia Pontigia muove eh i suoi primi passi quindi per me tutti questi erano poi i tasselli preziosi anche perché Umberto Eco naturalmente uno dei degli autori che compaiono anche diciamo nella bibliografia critica eh del che Pontigia poi forniva nei suoi corsi di eh di scrittura eh qui vedete appunto un un numero del 1963 in cui è già citato Umberto Eco e 1963 anche l'anno in cui si costituisce ufficialmente il gruppo 63 quindi la neoavanguardia un gruppo che eh ragiona su tanti temi ma fondamentalmente come dice Pontigia ha un'ossessione e cioè eh la mh il completo svuotamento eh del del linguaggio eh linguaggio ha perso la sua partita qual è la partita che ha perso quella di ehm avere un rapporto con la verità a questo punto eh ovviamente è un problema che è legato alla eh alla civiltà di massa a quella appunto che eh Pasolini definirà omologazione ehm e la reazione dei eh poeti dell'avanguardia è un della neoavanguardia un po' simile a quella dei poeti dell'avanguardia di inizio secolo cioè uno sperimentalismo eh che però riguarda la lingua scritta ehm fondamentalmente le operazioni che fanno sono eh operazioni per esempio la poesia come la poesia verbovisiva che tende a giustapporre spezzoni di lingua spesso sono proprio ehm ritagli di di giornale eh per produrre un effetto di ehm di straniamento di alienazione che poi ci fa riflettere anche sulla sulla alienazione del del linguaggio eh la moneta è considerata proprio una moneta che ha completamente perso il il suo valore ma di nuovo stiamo parlando di un di un problema letterario ancora squisitamente eh letterario sì ecco andiamo avanti eh ci spostiamo già eh ma in realtà gli anni sono quelli eh perché nel 1964 esce su rinascita il famoso articolo di Pasolini nuove questioni linguistiche ehm che però appunto sposta un po' il il focus del problema dal ehm dalla ricerca no di una lingua frequentabile dal punto di vista letterario e narrativo a una più ampia considerazione dei movimenti che ci sono ehm dal punto di vista linguistico sul territorio eh italiano ehm sul tema è ritornato recentemente eh Paolo d'Achille con un libro appunto dedicato a che si chiama Pasolini per italiano l'italiano per eh per Pasolini e ehm i vari interventi eh un coro di voci davvero e partecipano un po' tutti gli intellettuali del del tempo qui vi ho citato per esempio eh Cesare Segre ma ci sono Maria Corti insomma eh Moravia e tanti altri diciamo sia scrittori sia sia critici eh il problema di Pasolini vi dicevo nasce come come problema ehm espressivo quindi problema di uno di uno scrittore di uno scrittore che eh vede nel nel cosiddetto neo italiano eh un uno strumento inservibile perché è uno strumento puramente comunicativo bassissimo tasso di espressività contemporaneamente vede erodere eh il terreno dei eh dei dialetti fa una profezia sicuramente pessimistica se pensiamo poi alla alla risorgenza del eh dei dialetti negli anni eh successivi ma naturalmente sono un discorso che è legato anche alla ehm eh alla fine della 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 cultura contadina che quei eh dialetti esprimono eh provocatoriamente eh Pasolini eh saluta l'avvento del nuovo italiano esemplificandolo come un discorso di Aldomoro per l'inaugurazione di un di un'autostrada e certo quello che eh emerge è eh la difficoltà ehm per i narratori eh degli anni sessanta di trovare una parola credibile abbiamo visto ma anche una parola che ehm rispecchiasse una realtà che evidentemente era eh era eh era mutata e come come fare per evitare sia la eh soluzione iperletteraria sia la tentazione del gergo perché nel frattempo la lingua italiana in movimento aveva ehm reso probabilmente anche più più eh più visibili eh una serie di usi che al tempo avevano ancora definiti mh corporativi spesso anche appuntigioso questo termine parla di gerghi eh corporativi e in un certo senso un esempio è anche un po' l'antilingua del del brigadiere di Calvino eh che scrive il suo eh verbale eh e lo scrive all'insegna di quello che Calvino chiama il terrore semantico eh fondamentalmente il brigadiere è un è un italiano italiano istruito ecco ehm che eh nel momento in cui si mette a scrivere ehm è terrorizzato no dall'idea di utilizzare delle espressioni che siano troppo dirette e quindi ehm si rifugia in quella che Calvino eh definisce eh l'antilingua e sempre in un articolo del 1965 gli articoli che poi sono stati raccolti nel ehm in una pietra eh sopra parlando in questo caso della della traduzione della lingua della traduzione eh Calvino riconosce all'italiano una certa duttilità ehm se non che dice l'italiano facilecca quando si tratta di rendere eh dei registri più più bassi perché eh dice a livello della conversazione familiare sempre stucchevole immediatamente datato di nuovo ritorno a questa idea dell'italiano che l'italiano medio è una lingua impossibile infrequentabile qui diciamo italiano medio è un'etichetta che viene proposta per difetto cioè come qualcosa che non c'è poi vedremo che ritornerà a questa dicitura un paio di anni dopo eh proprio per definire invece una varietà che finalmente si riesce a identificare di cui si riconoscono dei dei tratti nel famoso studio di Sabatini ehm quindi alla base diciamo c'è la la grande consapevolezza no che Pasolini ha e ovviamente anche 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 Calvino che l'italiano sta espandendo il suo ehm i suoi ehm proprio i contesti eh d'uso e di conseguenza anche il il raggio d'azione semantica quindi l'italiano non serve più a parlare per parlare solo in situazioni formali e di contenuti eh diciamo ufficiali ma eh entra sempre di più anche nell'ambito della conversazione quotidiana allora che lingua eh usare e in che modo poi rendere questa lingua ehm io ehm insomma adesso questa è una così una memoria che mi è tornata proprio mentre mentre preparavo le slide stamattina e cioè mi sono ricordata che eh qua dell'impressione che mi aveva fatto leggere Marco Valdo quando ero una ragazzina mh alle alle scuole medie cioè io in quel libro avevo avuto per la prima volta la sensazione di trovarmi di fronte a a un parlato autentico cioè i bambini parlavano come di bambini e anche il genere il padre insomma un operaio veramente un po' sconclusionato mi sembrava proprio che parlasse ecco ancora non conoscevo eh la terminologia che poi ho imparato no? Riconosce le dislocazioni a destra a sinistra ma per me il fatto che dicessero a me mi sembrava veramente liberatorio ecco però diciamo quando viene scritto ehm Marco Valdo cioè a fine degli anni sessanta veramente quei dialoghi sono molto innovativi eh direi e c'è un grande sforzo appunto di di mimesi del reale un reale diverso straniato in cui appunto il bosco in città eh è fatto da da cartelli stradali quindi ehm c'è questa questa idea di ehm di un mondo nuovo per il quale questo poi anche il problema di Gianni Rodari no? Di cui si è molto parlato ehm nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle cioè dire la realtà eh con eh con le parole semplici con le parole di una quotidianità che però non è più la quotidianità rurale che mostrava nei libri degli anni sessanta quella contro cui poi eh lo stesso Umberto Eco si scaglia un libro che un libro pamphlet che si chiama Pampini e bugiardi ehm quindi questo problema eh ha anche poi ovviamente dei riflessi ehm per quanto riguarda la didattica nella scuola perché comporta lo svecchiamento di una lingua che oscillava tra il bamboleggiamento la proposta di eh un mondo completamente linguisticamente ma anche dal punto di vista proprio dei reali a inautentico e ehm dall'altra parte invece un italiano scolastico che era altrettanto eh inautentico perché appunto modellato su un ehm su registro formale che poi neppure si ritrovava no nella in quella letteratura che avrebbe dovuto costituire lo standard di di riferimento ehm allora vi dicevo appunto i linguaggi settoriali 1973 eh esce il primo grande studio appunto sui linguaggi settoriali in Italia curato da Gianluigi Beccaria vedete ci sono dentro appunto anche Umberto Eco che parla proprio di lingua della televisione Cettuglia De Mauro e ehm diciamo che i linguaggi settoriali sono una realtà da mettere a fuoco ehm che gli scrittori però tendono a ehm diciamo tenere a distanza ecco vedremo che anche nelle lezioni di di Pontigia c'è sempre questo richiamo cioè eludere la tentazione del del gergo perché il gergo è raramente espressivo quindi chiaramente è molto ehm utile no dal punto di vista di usi funzionali ma va accuratamente evitato eh quando si tratta di di scrivere a meno che non ci siano delle finalità metiche cioè se sto eh facendo parlare un un medico ecco potrò magari indulgere in quel tipo eh vi chiedo scusa qui c'è un errore Pietronelli ma insomma poi lo correggerò quando vi manderò le le slide e non ho avuto tempo neppure di completare la bibliografia ma lo farò eh se qualcuno appunto ha interesse e qui ho riportato appunto una una testimonianza di De Mauro tratta dai fogli di un diario linguistico e una sorta di di seguito no? Dei delle autobiografie linguistiche che De Mauro aveva già affidato a due volumi del mulino e che è uscito in questo in questo appunto numero di nuovi eh argomenti e De Mauro ricorda appunto che nel stesso anno 1973 che anche l'anno in cui poi ehm De Mauro inizia insomma con la con la nascita del Gissel ehm inizia a entrare anche più eh dentro il problema eh della scuola c'era ancora l'eco naturalmente nella lettera a una professoressa che era eh uscita nel nel 67 beh in quest'anno ehm partecipa come autore anche alla creazione di una trasmissione che si chiama parlare leggere scrivere parlare è ehm è la prima è la prima voce parlare appunto ma mh come viene visto il parlato ehm qualche anno prima quindi sempre siamo sempre diciamo a cavallo del 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 1970 c'era stato un un convegno a a Palermo in cui eh De Mauro aveva ehm tenuto la relazione che poi aveva portato a un contributo che tuttora è sempre citato come una pietra miliare negli studi sul diciamo sull'oralità adesso scusate se a volte utilizzo ora oralità parlato come se fossero dei sinonimi quando ovviamente dei sinonimi non non sono ma appunto questo è il beh insomma quando si parla braccio sappiamo che si può anche avere una minore ecco una minore precisione e di nuovo appunto quindi 1970 cioè sono anni in cui ehm ci sono tante riflessioni ehm riflessioni che tendono però a far convergere la considerazione del parlato cioè a sovrapporre la considerazione del parlato alla eh diciamo allo studio di altre varietà per esempio basse cioè il cosiddetto italiano popolare no quello che Cortellazzo definisce il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto stesso De Mauro eh si occupa appunto eh di eh italiano popolare in l'inizaggio sempre del 1970 e eh dall'altra mhm diciamo c'è la tendenza a sovrapporre no lo studio del parlato con lo studio delle varietà più più locali eh che significa fondamentalmente varietà ehm diciamo dialettali ma si inizia già a parlare di italiani e regionali perché nel 1900 nel 1900 appunto a due esce il volume di ehm Trampere e Maddalon e ed è comunque cioè ci sono anche ehm diciamo delle epifanie interessanti perché proprio lavorando per esempio sulla standardizzazione dell'italiano a Napoli eh Rosanna Sornicola eh si sposta no poi sul terreno dell'organizzazione testuale degli enunciati orali e diciamo che progressivamente eh adesso faccio una sintesi brutale di cui eh mi perdonerà eh diciamo che si sposta ecco il focus dalla da un'attenzione che c'è soprattutto diciamo nel lavoro intorno all'ottantacinque molti raccolti nel famoso volume di ehm altus e racche dalla diciamo dicotomia scritto parlato allora sono due poli opposti o sono comunque diciamo gli estremi di un di un continuum ci si sposta verso una maggiore considerazione degli aspetti peculiari del parlato e solo a livello testuale quindi di organizzazione complessiva del discorso ma anche a livello sintattico e mh a livello eh prosodico e mh intonativo che sono poi le le peculiarità appunto eh del del parlato ehm qui naturalmente ci spostiamo avanti siamo già diciamo un po' scavalliamo eh di eh di decennio e eh andiamo poi verso una considerazione anche pragmatica del parlato poi ci saranno naturalmente gli studi di analisi della conversazione ma insomma questo è un capitolo che non che non analizziamo rimaniamo adesso un po' intorno agli anni ottanta negli anni ottanta eh come vi dicevo questi eh sono tutti testi no che Pontigia aveva bene in mente che aveva studiato e annotato cioè mh perché poi vedremo che appunto a differenza di altri ehm scrittori che si muovono nella nuova avanguardia che si avvicinano piuttosto al nuovo roman di eh di Rob Grier oppure eh anche all'Ulipo quindi eh di nuovo una ricerca che però viene fatta sulla lingua scritta a livello combinatorio di sperimentazione di varie soluzioni Pontigia si concentra proprio sul recupero anche eh sì di un'autorità del no di una che sia collegata alla dimensione della dell'oraità e quindi approfondisce eh legge compra e legge tutto quello che esce sulla sul tema e ehm sono libri appunto diciamo anche un po' periferici no rispetto a quelli che sono i nostri interessi eh perché c'è ehm ci sono appunto i due gesuiti Ong e Ejus ehm che da un punto di vista anche diciamo più antropologico eh si occupano della della matrice orale del testo sacro ehm ma al tempo stesso approfondiscono poi ehm il tema no quello che appunto Ong definisce delle tecnologie della della parola quindi eh il rapporto poi tra la dimensione verbale e il suo mezzo c'è anche chi come esum tor eh lavora eh lavora invece sulla 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 lingua poetica e di nuovo siamo in in due di quei territori di cui parlavo prima che ehm Pontigia eh ritiene siano proprio gli ambiti in cui sia eh diciamo la parola autoritaria trova la sua maggiore espressione e qual è l'idea che appunto l'oralità non è qualcosa in meno rispetto allo scritto allo stesso modo per cui lo scritto non è semplice trascrizione dell'oralità ci sembrano verità banali oggi ma appunto in una tradizione scrittocentrica che tendeva a vedere eh l'orale come qualcosa di eh fondamentalmente sciatto trascurato eh privo di una tradizione e eh appunto di una sorta di palinzesto eh era molto molto pervasiva ecco e mi piace anche ricordare una riflessione di di Claude Agege perché tra anche il suo libro ecco esce sempre in quel fatidico 1985 ehm perché eh insomma la sua citazione che vedete nel nell'ultimo punto cioè lui dice una lingua scritta non è una lingua orale trascritta è un nuovo fenomeno linguistico oltre che culturale e attraverso questo nuovo fenomeno linguistico che è la scrittura eh anche la riflessione grammaticale mh del resto etimologicamente no grammatica è eh eh l'arte della parola scritta quindi mh la riflessione grammaticale può può eh fare uno uno scatto avanti eh ma insomma poi Agege adotta una prospettiva che oggi diremmo tipologica cioè eh mette a confronto no varie e varie lingue anche lingue che non hanno una tradizione orale rispetto eh non hanno una tradizione scritta rispetto a lingue che eh la hanno e naturalmente ehm vuole contrastare no luogo comune per cui eh le eh le civiltà che non hanno una lingua eh scritta sarebbero magari appunto da da considerare eh in qualche modo mh deficitarie ehm diciamo che poi naturalmente c'è eh Alliday quindi la sua considerazione anche funzionale della differenza tra lingua parlata e lingua scritta eh il libro di Alliday esce anche di nuovo nel 1985 nella versione inglese e mh a differenza di quello di Hong che viene tradotto insomma abbastanza in fretta da dal mulino ehm il libro di Alliday viene tradotto solamente nel eh 1999 e vi ho però voluto riportare la la copertina perché esce nella nella Nuova Italia nella Biblioteca di Tajana e Oltre che eh appunto è eh eh poi eh storicamente legata anche al al GISH insomma al gruppo di eh eh di intervento e studio proprio nel campo dell'educazione linguistica che ehm che De Maura aveva contribuito ad animare insomma anche con la collaborazione poi di Simone che eh dirige la rivista e tra l'altro mh ancora direi ancora negli anni ottanta sono spesso i linguisti che traducono altri grandi linguisti quindi sia per la terza sia per il mulino troviamo collane dirette ma anche proprio linguisti direttamente impegnati nella traduzione di questi testi che arrivano dal appunto a volte dalla dall'Inghilterra dalla Francia eh e qui entra anche e in Audi come come vedete ehm per quanto riguarda ecco adesso diciamo ogni tanto ritorniamo nell'alveo della della linguistica italiana perché eh in tutto questo ecco recentemente ho avevo preso in esame e riflettendo appunto su grammatica su grammatica della fantasia di Rodari e poi ho preso in mano e ho andato a cercare le grammatiche che possedeva Rodari cioè quando Rodari scrive grammatica della fantasia che è del 1973 non ci sono grammatiche di riferimento dell'italiano lui addirittura guarda la grammatica di Panzini che è una grammatica degli anni trenta che Gramsci aveva stroncato e e poi sì insomma ci sono degli strumenti ma degli strumenti anche un po' un po' eccentrici lui eh cita il Toddi eh la grammatica una grammatica scritta da un personaggio appunto un poliglotta eh oggi oggi dimenticato ehm mancavano appunto degli degli strumenti di riferimento e Rodari era appunto uno che grazie anche no al tramite di De Mauro leggeva tantissima linguistica del resto la linguistica era un po' la disciplina cardine no? chiave in quegli anni e allora insomma fa notizia nel 1977 l'uscita no del del libro di Lepski e Lepski la lingua italiana perché è un libro concepito per apprendenti inglesi che finalmente descrive la lingua italiana per quello che è cioè chiaramente un uso colto della della lingua ma aperto non solo al eh alla varietà scritta ma anche alla alla varietà parlata e direi che dopo diciamo dalla fine degli anni settanta è tutto un eh un fiorire di eh di studi già eh in un l'articolo del 1980 ehm Samatini usa la formula lingua media che poi riprende nello studio eh del del 1985 in cui eh elenca tutta una serie di tratti oltre a una trentina di tratti che caratterizzerebbero appunto quella varietà ehm che altri chiamano invece italiano tendenziale o mh o neostandard e mh ehm tratti che in realtà eh erano già attestati nell'italiano dei secoli scorsi ma che erano stati marginalizzati dalla norma e naturalmente eh tenuti rigorosamente fuori eh dalla dall'insegamento scolastico poi diciamo questa eh continuità ehm diacronica eh dei tratti del parlato verrà approfondita nei lavori di eh di Paolo D'Achille eh comunque ecco l'italiano medio diventa oggetto di studio ma subito da medio viene etichettato come selvaggio nel 1985 esce appunto questo numero speciale di Sigma con una rivista vedete di letteratura nella quale proscrivono diciamo quasi praticamente ci sono un po' tutti i nomi no nella linguistica eh del del tempo ci sono certo anche degli scrittori Malerba, Fruttore Lucentini tra l'altro proprio Fruttore Lucentini scrivono un brillante racconto eh che ha per protagonista eh un corsista che frequenta i corsi di pontigia che proprio erano iniziati proprio in quegli anni ed è esilarante perché fa vedere come eh questo giovane che prima scriveva in modo appunto un po' come il brigadiere eh alla fine eh riesca a scrivere delle insomma delle lettere d'amore autentiche alla alla sua alla sua innamorata. Questo libro però italiano lingua selvaggia nasce non diciamo in reazione cioè non è un discorso diciamo intralinguistico no? Un battibecco tra studiosi ma nasce proprio come reazione dei linguisti al successo che aveva avuto un libro divulgativo e cioè impariamo l'italiano di Cesare Marchi. Diciamo che nel dibattito pubblico in quegli anni era già diffusa l'idea che l'italiano fosse entrato un po' in una fase di decadenza. Cosa era successo nel frattempo? Appunto era nata la scuola media unificata, si era allargato il bacino del diciamo dell'istruzione pubblica, c'erano state 1985 anche l'anno dei nuovi programmi che per la scuola elementare, il 79 c'erano stati nuovi programmi per la scuola media, quindi era cambiata la scuola per rispondere all'esigenza di una società che cambiava. Ma di nuovo c'è una società letteraria e possiamo anche dire una società linguistica o storico-linguistica che vede questi cambiamenti con un segno negativo e al tempo stesso stigmatizza anche chi come Marchi ottiene un grande successo perché fornisce delle soluzioni rapide, quelle che oggi chiameremo easy way, cioè un galateo ti insegna un po' gli errori da non fare. Tra l'altro questa del dubbio linguistico, dell'errore diventerà un filone molto produttivo, tuttora molto dal punto di vista editoriale molto presente. Poi in quegli anni ci sono appunto molti, beh tra l'altro lo stesso Beccaria diventerà il protagonista di una famosa trasmissione televisiva e poi ci sono giornalisti come Luciano Sarta, diciamo ci sono molte rubriche nei giornali che riguardano appunto i dubbi di lingua o in generale un po' le novità dell'italiano ma sempre in un'ottica normativa, se non che di nuovo c'è un grande bisogno di norma ma non ci sono delle descrizioni aggiornate della lingua italiana e la seconda metà degli anni Ottanta vedrà in realtà un grande lavoro proprio che porterà alla nascita di queste grandi grammatiche, quindi fondamentalmente Serianni, Ottantanove e anche almeno i primi volumi della grande grammatica di Renzi che naturalmente hanno un impianto completamente diverso ma nascono comunque da un bisogno che è quello diciamo da un lato di fornire per l'italiano comune e la lingua letteraria una descrizione di riferimento e dall'altra quello di recepire tutti gli apporti della migliore linguistica per dare una descrizione scientifica della lingua ed è interessante perché dentro questo numero di italiano lingua selvaggia c'è già il discorso proprio sul declino della lingua italiana associato alla lingua degli studenti universitari molti di degli iscriventi sono dei docenti universitari che appunto sottolineano questa quella che demora avrebbe definito caduta verticale no delle delle competenze e non a caso poi pochi anni dopo nel 91 ci sarà proprio la prima indagine di Berruto e Lavinio proprio sulla lingua degli studenti universitari quindi vedete ci sono tanti discorsi che qui sono come innunce ma poi attraverseranno un po' tutti gli anni successivi e inizia a oltre diciamo che la lingua degli essenti universitari si inizia a guardare con interesse anche alla lingua dei giovani che sta esplodendo perché poi quelli saranno anche gli anni delle culture contro culture giovanili saranno gli anni da solo lo vedremo in cui tondelli dalle pagine di linus lancia una sorta di appello a quelli che lui chiama gli scarti dell'industria editoriale cioè quei giovani che non appartengono alla società letteraria quindi non riescono a pubblicare nasceranno anche in questo caso il filone della letteratura giovanile la cosiddetta letteratura cannibale una letteratura che di nuovo accoglie il parlato il substandard e tutto quello che diciamo la nella tradizione ufficiale fino a quel momento portava il segno negativo ecco mi fermo un attimo perché nei vari materiali che sono andata a cercare per ho trovato questo vecchio numero di una rivista poco conosciuta anche la rivista cacao che era pubblicata dalla libera università di alcatraz che si era inventato jacopo fo in in umbria e che d'estate invitava una serie di appunto scrittori qui ci sono anche stefano benni e in questo caso c'è dacia maraini che è stata insieme anche appunto appunti già raffaele crovi una delle prime a interessarsi anche lei di corsi di scrittura creativa 80 siamo nell'estate del del 84 e poi appunto raffaele crovi a ottobre era direttore creativo del teatro verdi di milano inizia a fare i corsi di scrittura creativa e l'anno dopo poi verrà insomma il testimone verrà preso da da pontigia e poi in dacia maraini e pontigia collaboreranno anche ad altre iniziative legate appunto ai corsi di scrittura dacia maraini farà anche un corso che verrà venduto in edicola proprio a puntate nonché una trasmissione televisiva proprio di sempre trasmessa dalla dalla rai proprio sulla scrittura diciamo che qui inizia già iniziano già a divaricarsi le strade c'è da un lato c'è la volontà di allargare la base sociale no della degli scrittori no non solo degli scriventi quindi dire a scrivere si può imparare non si nasce scrittore scrittore si diventa vediamo come come fare dall'altra però inizia anche esserci il bisogno di una sorta di rieducazione alla scrittura funzionale di punto scriventi adulti che magari per lavoro parliamo anche appunto di giornalisti ma i corsi di pontigia erano frequentati da anche da molte persone che iniziavano a lavorare nella pubblicità nel marketing quindi c'erano nuovi bisogni linguistici cui appunto queste scuole rispondevano e chiaramente queste scuole nascevano anche un po sull'onda delle scuole di creative writing americane anche se insomma pontigia poi puntualizzerà sempre la differenza tra quella che lui considerava una scrittura creativa invece quella che lui voleva insegnare una scrittura espressiva cioè lui non voleva insegnare le persone a diventare scrittori ad acquistare la consapevolezza nelle potenzialità della propria della propria scrittura e a diventare soprattutto responsabili della del linguaggio e dicevo è interessante questo testo perché un testo poco conosciuto di nuovo una sbobbinatura è una trascrizione proprio delle della lezione che aveva tenuto da ciamaraini e di nuovo era la prima lezione che le teneva allora lei inizia subito dal parlato e dice uno dei problemi dello scrivere e rendere il parlato della lingua quotidiana è difficile la lingua quotidiana parata è estremamente povera noi parliamo con poche parole mentre nel momento della scrittura si sente bisogno di arricchirla un po perché se si adoperassero soltanto quelle 2000 parole che normalmente usiamo la scrittura risulterebbe estremamente ridotta scarna meno mata e poi fa appunto anche lei una sorta di excorso storico per far capire che l'italiano parlato è una conquista recentissima dice quando scriviamo ci troviamo ancora davanti dentro di noi come memoria tavica questo dualismo questa dicotomia tra la lingua scritta che è una lingua colta e la lingua parlata che invece molto rozza questo è un grosso problema per lo scrittore italiano e continua dice ma finora la lingua italiana partirebbe soprattutto a tre categorie quella dei preti che ufficialmente pretendeva che si parlasse un certo italiano che veniva da latino quella della legge degli avvocati che parlavano in italiano leguleio infine quella dei burocrati quelli che stilavano i documenti e che parlando in nome dello stato dovevano usare una lingua ufficiale queste tre matrici della lingua scritta sono purtroppo dentro alla lingua parlata di oggi quindi continua l'idea che parlare bene significhi parlare un po come un libro stampato allora questi sono i testi di riferimento dice l'italiano in carico di un peso burocratico e addirittura propone la trasmissione televisiva come esempio e poi dice c'è ancora la lingua tecnologica quindi quell'italiano tecnologico di cui parlava Pasolini che poi di Moravia e Maraini era grande amico secondo Dacia Marini appunto è qualcosa di ancora vivo forse diciamo più che tecnologico potremmo chiamarlo un po aziendale oggi come propone appunto Paolo d'Achille lei dice è questa la lingua che dà l'illusione di possedere la realtà perché la tecnologia da questa impressione si possiede una radio si prema un bottone ed ecco che sia il rapporto col mondo ma un'illusione il possesso vero nasce da una lenta conquista da un'approfondita conoscenza delle cose il linguaggio tecnologico una lingua inespressiva il contrario della sensualità quindi di nuovo c'è questo problema che lo scrittore ha con tutto ciò che è tecnologico quindi visto come una diciamo asettico privo di espressività vi ho già citato Linus una rivista che in quegli anni è davvero una rivista innovativa e nel 1985 per Vittorio Tondelli uno scrittore appunto che teneva una rubrica su Linus e che si era già fatto conoscere per i suoi libri Camere separate, altri libertini inaugura appunto una rubrica in cui chiede ai giovani di scrivere poi insomma in associazione con una casa editrice di Ancona, la Trans Europa creerà una prima raccolta e contribuirà a lanciare tutta una serie di nuovi scrittori e questi scrittori non vengono più appunto da una carriera tradizionale per cui spesso sono anche operatori editoriali o giornalisti o comunque persone che sono già dentro il tra virgolette sistema ma vengono scoperti e diremmo proprio lanciati quindi contemporaneamente c'è un esperimento come quello della scuola di scrittura del Teatro Verdi che comunque è una scuola che accoglie, che ha un costo ecco diciamo i primi corsi costavano circa 300.000 lire che era abbastanza una cifra importante per l'epoca e si tenevano una volta a settimana in orario serale quindi diciamo era qualcosa per comunque per un numero restretto di persone per adulti di solito appunto professionisti delle parole interessati a migliorare le capacità espressive dall'altro c'è un esperimento diciamo democratico allargato come questo e anche a basso costo e mi ho messo questa copertina perché poi c'è una frase di Snoopy che Italo Calvino, di cui parla anche Calvino perché addirittura dice che lui aveva questo poster nel suo studio e ogni volta che iniziava a scrivere un libro lo guardava perché accingersi a scrivere un libro è sempre un po' no? fare un po' come Snoopy che diciamo per superare il terrore della pagina bianca ricorre al topos, al cronotopo e su questo è una citazione che arriva anche poi a Umberto Eco che addirittura nel nome della Rosa un libro che praticamente ha tre incipit ma uno di questi è un gioco che è costruito proprio su una citazione su una sorta di rifacimento dell'incipit di Snoopy e lui appunto lo dichiara, era uno dei suoi divertimenti ecco questo è il, vedete, vi ho messo così una ogni tanto vedrete degli articoli che appunto sono usciti fuori dall'archivio gli articoli d'epoca in cui si annuncia la nascita di una nuova scuola di scrittura all'inizio è Raffaele Crovi a lanciarla e Raffaele Crovi anche se tiene per poco tempo le lezioni scriverà un manuale di scrittura che si chiama appunto Parole incrociate guida alla scrittura creativa invece come vi dicevo Pontigia che terrà praticamente i corsi per più di dieci anni non scriverà mai un vero e proprio manuale quindi dall'85 al 96 e lui appunto insisterà sul fatto che si tratta di guida di corsi di scrittura espressiva non proprio creativa e qui Pontigia che già collaborava al Corriere della Sera fa una sorta di operazione di autopromozione cioè il giorno prima di entrare in aula al Teatro Verdi fa uscire questo corsivo, questo trafiletto sul Corriere della Sera in cui in qualche modo anticipa e dice la prima lezione avrà per tema il linguaggio della prosa ed è interessante perché nell'archivio ho poi trovato il testo dattilo scritto della sua prima lezione perché lui la prima lezione evidentemente trovandosi anche di fronte al pubblico l'aveva scritta in cui riprende da dove si era interrotto qui cioè dal personaggio del borghese Gentiluomo di Molière che fa tutto un gioco su prosa e poesia e da lì appunto riparte per costruire il suo primo intervento è un corso dedicato al linguaggio della prosa ma poi ci seguiranno molti corsi tematici e alcuni di questi saranno dedicati proprio esplicitamente al tema dell'oralità ecco rapidamente volevo appunto ricordarvi che poi in quegli anni oltre che di parlato si inizia a riflettere anche in modo diverso sulla scrittura cioè arrivano per esempio i lavori di Beretta e Scardamalia che fanno capire che la scrittura è un processo un processo che comporta spesso una trasformazione quindi quando scriviamo non è detto che trascriviamo quello che già sappiamo ma spesso scopriamo qualcosa che non sapevamo di sapere questo è un concetto che si ritrova anche nelle lezioni di Puntigia che concepisce la scrittura autentica come un viaggio un viaggio di scoperta e lui dice alla fine del viaggio scopriamo sempre qualcosa che non sapevamo di sapere ma vedremo Puntigia dice lo stesso dell'oralità cioè lui dice l'oralità autentica e in particolare la dimensione dialogica diciamo se vive di vita autonoma e ha efficacia, forza, pienezza alla fine deve portarci in una direzione che non avevamo previsto cioè deve farci scoprire qui siamo facilitati anche dal confronto con l'altro dal fatto che l'altro raccolga non solo le nostre parole ma tutto il linguaggio del corpo beh sicuramente alla fine ne usciremo noi stessi arricchiti Puntigia crede molto nella tecnica ma ecco quelli erano anche gli anni della nuova retorica cioè in cui si riscopriva gli studi di retorica applicati non solo appunto ai testi antichi di parte eccetera ma anche all'argomentazione quindi vengono tradotti l'Ausberg, Perelman e sicuramente questo è un altro aspetto che poi influenza molto la riflessione di Puntigia che appunto cerca di insegnare le tecniche definisce la retorica proprio un artificio necessario alla naturalezza amava molto appunto gli ossimori dice la tecnica serve per liberarsi della tecnica se io non conosco la tecnica alla fine ne rimarrò soggiogato e in qualche modo lui dice c'è una tecnica anche nel parlare sicuramente nel parlare in pubblico ma non è di questo che si interessa direi che un po' come accadeva anche diciamo negli studi linguistici lui era ancora interessato alla differenziazione dell'oralità e della scrittura nelle sue lezioni dice prima di parlare di scrittura è meglio sgombrare il campo dai pregiudizi e uno dei pregiudizi di cui liberarsi è questo scrivere non è trascrivere tantomeno appunto passare da un discorso parlato alla sua trascrizione e la cosa interessante è che in molti lanci diciamo di questo corso che ha una grandissima eco cioè se ne parla tantissimo sui giornali non c'è giornale davvero in cui non ci sia appunto un'intervista un rimando anche perché contemporaneamente Pontigia faceva tantissime lezioni seminari con l'ACI l'associazione culturale italiana invitato da universitari quindi era spesso andava anche nelle città faceva incontri nelle biblioteche quindi molto spesso appunto la stampa si interessava a questi corsi che erano un'autentica novità e quando appunto di solito i giornalisti andavano ad ascoltare queste lezioni o queste queste conferenze venivano sempre colpiti dal fatto che lui distingueva il parlare e lo scrivere allora qui vedete primo non tradire la lingua parlata e dice così ama il linguaggio orale Giuseppe Pontigia cioè la scrittura è un'invenzione meccanica e si presta fra intendimenti vedete su 3000 lingue nel mondo solo 76 hanno una letteratura scritta grandi maestri di pensiero non hanno scritto e poi continua con una serie di affermazioni che poi vedrete anche riprese e riformulate nelle sue lezioni che come vi dicevo affrontano sempre come insomma il tema di avvio la messa a fuoco della scrittura attraverso la differenziazione rispetto al parlato ma il parlato non è qualcosa in meno il parlato per Pontigia è qualcosa in più perché è il linguaggio della parola e del corpo presuppone una situazione precisa presuppone un altro e soprattutto presuppone la fisicità della persona che parla qui e ora e oltre alla dimensione proprio delle parole lui dice lo scritto e l'orale hanno in comune solo una cosa l'uso della parola ma per tutto il resto non sono non sono sovrapponibili dice la prosa un carattere artificiale lo dice qui un testo scritto è radicalmente diverso da quello parlato proprio perché sfrutta un canale diverso il canale visivo a tempi di pianificazione diversi guarda a modelli diversi bene poi magari se siete interessati potrete insomma leggere ingrandendo suona abbastanza fuoco ecco poi ve le lascio insomma sono delle testimonianze interessanti perché appunto mentre alcuni linguisti italiani magari erano ancora lì che parlavano dell'italiano lingua selvaggia Pontigia invece dice parla come mangi ma nel senso positivo del termine perché poi lui adorava la buona cucina ecco qui c'è un altro aspetto cioè l'importanza che lui dava l'oralità l'abbiamo visto anche quando dice grandi maestri come Buddha Socrate hanno affidato solo alla lingua parlata il loro insegnamento e Pontigia dice noi siamo veniamo da una cultura che ha un modello superstizioso della parola scritta cioè pensa che non ci sia cultura senza scrittura e lui dice invece molto spesso l'insegnamento più efficace la parola più persuasiva è la parola parlata perché appunto è lingua anche del corpo e lui stesso privilegiava era un grandissimo affabulatore se abbiamo poi l'occasione di sentire anche un pezzetto della trasmissione sentirete aveva proprio una voce calda pastosa nonostante già appunto avesse dei problemi alla gola che già insomma a questa altezza temporale si sentono per cui molto spesso appunto aveva la gola che si seccava ma curava moltissimo la proprio il porgere la parola e anche alla radio in assenza diciamo di un di un interlocutore in presenza manteneva una costante dimensione proprio di di dialogo e nei corsi però lui diceva io lo faccio cioè lo faccio quindi insegno attraverso il contatto diretto con chi mi ascolta con chi vuole migliorare la propria capacità espressiva orale e scritta dice in questo contatto credo per me essenziale per questo non trasformo le lezioni in dispense perché nella dimensione scritta della pagina non sarebbero più le cose che insegno insomma tra l'altro adesso stamattina poi riascoltavo un pezzo di una delle conversazioni che riguardano proprio l'oralità e insomma c'era un punto in cui richiamava anche Elliot no forse era Pound la distinzione che lui faceva tra due tipi di insegnanti quelli che lasci che si devono fare una lezione di un'ora aspettano appunto che scada l'ora e quelli che invece decidono di mettersi in gioco e di solito escono trasformati dalla lezione stessa cioè mettono in gioco qualcosa che li porta oltre quello che avevano programmato appunti già parla molto di questi parlatori scritti cioè quelli che hanno già il testo scritto e si limitano appunto a oralizzarlo a recitarlo lui non amava partecipare ai convegni proprio diciamo ai convegni ufficiali proprio perché di solito si richiedeva che che si leggesse un testo invece lui amava parlare a braccio naturalmente forte di una preparazione con una sua scaletta tutto conservato nell'archivio ma voleva che una conferenza fosse un autentico evento in cui lui potesse mettere in gioco come parlante tutte le risorse dell'oralità ecco questa valorizzazione dell'oralità per me è stata è stata una grande lezione per me penso che mi abbia proprio aiutata anche a rivedere un po' le mie le mie priorità o meglio io ho sempre pensato di essere più efficace nella comunicazione scritta e molto debole nella comunicazione parlata e insomma attraverso questo lavoro e che poi è stata anche un po' un lavoro di anni ho imparato da un lato anche a lasciarmi più più andare non all'improvvisazione ma credere di più appunto nella parola nella parola parlata e al tempo stesso a curarla di più negli aspetti che so di poter che so di poter controllare senza per questo appunto poi risultare troppo sì insomma troppo ricercata ecco ho imparato a non parlare come scrivo anche se tendo ancora a chiudere il cerchio del periodo quando quando lo inizio o ancora forse un'oralità un po' scritta la cosa interessante l'aspetto interessante delle lezioni che ho pubblicato questa è la rivista in cui erano usciti Wimbledon La gente che legge questa rivista era diretta da Giorgio Dell'Arti che attualmente su Robinson che è il supplemento culturale ha riproposto un torneo letterario che si chiama sempre Wimbledon perché questa rivista praticamente faceva sempre era fatta solo di recensioni quindi grandi lettori spesso scrittori recensivano altri scrittori e spesso li mettevano a confronto facevano delle piccole gare e poi c'è appunto questa questa rubrica fissa con Pontigia che insegnava a scrivere all'inizio Dell'Arti va a casa di Pontigia fa delle interviste le trascrive le reinvia a Pontigia che inizia a correggere ricorreggere ci mette mano e tende sempre più ad asciugarle la prima lezione è molto più lunga delle altre ed è quella che è più legata alla trascrizione dell'intervista dalla seconda puntata in poi Pontigia dice non occorre più che tu mi faccia le interviste mi auto intervisto io quindi lui scrive dei testi simulando l'intervista e questa è una soluzione che lui trova e che lo soddisfa perché gli permette di ricreare quelle condizioni di dialogo alle quali normalmente affidava l'insegnamento che non era mai appunto monologico ma era sempre in dialogo con chi partecipava ai corsi anche perché erano persone che poi provavano scrivere quindi sottoponevano i loro testi li leggevano li consegnavano e naturalmente appunto era un giudice implacabile vi dicevo qui questo è un po' appunto un esempio dei materiali che sono conservati nell'archivio l'archivio è poi stato acquisito dalla BEIC la Biblioteca Europea Italiana di Cultura i materiali sono conservati a Milano e qui vedete Wimbledon quindi la domanda e poi la risposta e c'è già la sua tipica tecnica lui ha sempre scritto a macchina quindi fino agli ultimi anni e utilizzava proprio questa tecnica di aumentare l'interlinea per poi sfruttare lo spazio intermedio e inserire delle varianti e ci sono appunto varie versioni della stessa intervista trascritta e ci sono appunto già delle varianti poi lui aggiunge appenna questa appunto è la sua grafia fino ad arrivare via via ad una stesura più pulita e c'è poi l'ultima firmata che viene trasmessa via fax ma ci sono anche le fotocopie degli articoli così come uscivano sulla rivista addirittura con delle correzioni successive quindi lui continuava anche perché a un certo punto pensava lui stesso di raccoglierle di farne un libro per Mondadori quindi aveva corretto in più punti il testo e poi di queste correzioni naturalmente ottenuto che erano migliorative dal suo punto di vista ho tenuto conto nell'edizione quindi c'è un lavoro molto stratificato sicuramente c'è una matrice orale almeno proprio nelle primissime puntate perché c'è una vera e propria intervista ma poi Pontigia interviene praticamente riscrivendo mantenendo però la dinamica dello scambio nelle prime due puntate cioè le domande sono effettivamente di Dell'Arti che si firma Wibledon ma poi dalla terza puntata in poi è Pontigia che fa domande risposte ed è molto interessante perché molto spesso crea un gioco ironico per cui è come se volesse creare appunto degli effetti anche di dissonanza tra domanda e la risposta o degli effetti paradossali per cui è una lettura per me sempre sorprendente ecco ogni volta che lo rileggo anche se oramai è un testo che appunto mi accompagna da tanti anni perché io avevo appunto queste fotocopie che ho ancora qui da la fine degli anni degli anni 90 quindi ci hanno visto un po' di tempo per prendere la forma di libro e vi dicevo una cosa interessante è confrontare perché chiaramente c'è un nucleo di temi che sono abbastanza stabili e soprattutto Pontigia prima quindi fa questo esperimento su Wimbledon quindi simulazioni di interviste che però rimangono su quella diciamo rivista puntate e la rivista a un certo punto cessa le pubblicazioni nel 93 per cui anche in qualche modo rimane interrotto anche il discorso però poi gli viene proposto di fare un ciclo di lezioni per il programma dentro la sera queste lezioni vengono pubblicate da una scuola di scrittura Belleville di Milano nel 2016 viene fatta un'operazione però appunto di adattamento secondo me un po' discutibile comunque per fortuna c'è anche il CD quindi si può ascoltare la voce e quello che è poi interessante è confrontare diciamo il parlato trascritto con il modo in cui Pontigia tratta lo stesso tema nella simulazione di intervista perché chiaramente c'è già una diversa selezione una diversa focalizzazione e poi il ricorso a strategie che sono tipiche dello scritto ma sono anche peculiari appunto del suo stile sempre tagliente e ironico dunque allora qui vi ho messo anche poi il link al podcast e in particolare le conversazioni che che forse sono più interessanti sono la 4 e la 5 la 4 è più dedicata alla tema della differenza tra lingua scrittorale invece la 5 è molto interessante perché lui fa sentire agli ascoltatori 5 brani di di parlato rappresentativi di stili diversi di presentazione orale però tutti diciamo riferiti ma in questo caso Turoldo è un poeta e anche un uomo di chiesa quindi che ha una pratica particolare della parola poi c'è un politico come Prodi un politico però affabile che riesce a divulgare in questo caso si parla di questioni economiche bancarie poi c'è un comico come Beppe Grillo che lavorava solo nei teatri naturalmente in quel periodo e poi c'è Piero Chiambretti che invece è il comico televisivo e lui appunto fa un'analisi di questi discorsi che ovviamente un'analisi ecco mi piacerebbe sentire anche così un vostro parere è interessante perché chiaramente non è un'analisi tecnica però ci fa riflettere sulle peculiarità del parlato cioè lui dice per esempio concentriamoci su questo perché è lì è lì la sua insofferenza nei confronti non so della domanda un po' sciocca poi magari risponde ah sì domanda interessante ma è chiaro che quello che dice ha un significato opposto e la sua insofferenza l'aveva già dimostrata con quella tra l'altro in queste conversazioni dunque qui per i cd sono state tagliate delle parti che secondo me invece erano molto interessanti cioè nei podcast si sente che i radioascoltatori a un certo punto intervenivano telefonavano e lui rispondeva ed è molto interessante confrontare anche il suo parlato monologico con il suo parlato dialogico e ricondurre le sue affermazioni per esempio nei confronti dell'insofferenza verso alcune domande quindi diciamo riapplicare le stesse categorie che lui mette a fuoco alla sua pratica del dialogo in una situazione in cui ci sono sempre diciamo quegli scocciatori che vorrebbero appunto il loro momento di visibilità vediamo adesso che ore sono allora sì sono dunque io vorrei appunto lasciare un po' di tempo anche per per la discussione qui vi vi ho messo appunto quella che vedete a destra è proprio è la prima lezione del libro che ho che ho editato che questo può scrivere bene e vedete lui inizia così vogliamo cominciare da questo dalla differenza discursale scritto sì invece nel diciamo nelle conversazioni radiofoniche ci arriva dopo un po' e appunto vi ho vi ho messo giusto l'inizio perché poi insomma così se ascoltate avete anche un po' un'idea di tutto quello che è stato tagliato e di come sia stato in realtà riprodotto in forma scritta quel parlato ecco sì direi che allora sentiamo prima se avete delle domande poi magari se volete possiamo provare a sentire un pezzetto di audio o mi dite voi vuoi fare sentire prima un pezzetto di audio forse non so qualche proviamo forse vale la pena farlo prima e poi così lasciamo qualche minuto allora vediamo un attimo perché abbiamo detto la volete preferite sentire quello diciamo un po' più generale o quello in cui analizza il parlato di Turooldo o proviamo è difficile darti una risposta scena infatti ora vediamo facciamo ci dovrebbe essere una parte in realtà di vediamo se riesco a spostarlo sarebbe stato radicalmente diverso aspettate va era smessa da questa addio di un lubrificante di un'acqua minerale e quello che mi colpiva era direi la voce pastosa ecco il tono che così persuasivo quasi erotico questo ci può introdurre al tema di questa sera cioè la differenza tra linguaggio scritto e orale se queste espressioni riservate a un lubrificante a un'acqua minerale noi le avessimo lette l'effetto sarebbe stato radicalmente diverso e allora un modo per il argomento potrebbe essere questo di considerare linguaggio orale linguaggio scritto come due linguaggi radicalmente diversi che hanno in comune un fattore non trascurabile ma non decisivo che è quello della parola linguaggio orale noi lo potremmo definire come linguaggio primordiale dell'uomo linguaggio che caratterizza l'uomo proprio nella sua nella sua peculiarità linguaggio della parola noi non sappiamo quando sia stato inventato elaborato dall'uomo ma certamente secondo le stime degli antropologi paleontologi così la stima potrebbe essere milioni di anni prima di Cristo mentre il linguaggio scritto ha un'origine recente poche migliaia di anni prima di Cristo perciò il linguaggio orale ha in un certo senso accompagnato l'uomo nel corso della sua evoluzione ha acquistato una ricchezza di risorse di modalità di mezzi che lo rendono contrariamente a quello che si pensa un linguaggio straordinariamente comunicativo e direi anche preciso vedremo poi come potremmo definire il linguaggio orale come il linguaggio della parola e del corpo e per corpo intendo lo sguardo il tono della voce la gesticolazione la struttura fisica e estendendo questa nozione della fisicità della corporeità anche l'ambiente in cui si parla un grande linguista americano Blumfield diceva che nell'oralità noi non possiamo prescindere dalla situazione due persone che dialogano non so in un bar sono diverse da due persone dialogano in un modo diverso che due persone che conversano non so sulla riva del mare pure su un treno quindi il dialogo la parola orale che viene scambiata tra due persone presuppone sempre la situazione e noi nell'oralità dobbiamo sempre tenere presente che non è solamente la nostra parola che arriva all'ascoltatore e allo spettatore meglio ma è la nostra parola nella fisicità della sua enunciazione nella fisicità dell'ambiente e perciò anche questo influisce sulle modalità in cui noi comunichiamo il nostro pensiero generalmente noi pensiamo tendiamo a pensare che parliamo quando enunciamo verbalmente il nostro pensiero le nostre reazioni quindi tendiamo a pensare che la parola orale sia essenzialmente verbalizzazione ruzione in parole questo invece viene smentito dall'esperienza noi comunichiamo invece attraverso molte altre modalità le pause le esitazioni gli sguardi sono modi in cui noi comunichiamo una gamma vastissima di emozioni di reazioni la fisiologia del comportamento è comunicazione orale siccome però noi viviamo in un'epoca che è dominata in un certo senso dal modello superstazioso della parola scritta noi abbiamo l'impressione di parlare solamente quando pronunciamo parole quando verbalizziamo c'è una un terrore del vuoto per esempio durante le trasmissioni televisive anche radiofonico in generale si ha l'impressione che il discorso debba essere riempito di parole invece si si parla anche col silenzio mi ricordo un'amica che mi diceva che sua figlia rifiutava il dialogo mi chiedeva come mai mia figlia rifiuta il dialogo con me e io le avevo detto che conoscendo lei non mi stupivo che sua figlia rifiutasse il dialogo prima di tutto ma che comunque non si era mai chiesta se sua figlia invece voleva il silenzio e che molte volte i figli non amano la verbalizzazione ma amano invece il silenzio oppure poche parole l'amicizia si esprime spesse volte la solidarietà attraverso un linguaggio povero lessicalmente ma ricco interiormente però noi sempre il modello superstizioso della parola scritta della verbalizzazione la prima volta che io avevo parlato in televisione mi ricordo che ero stato invitato dal poeta Vittorio Sereni a una trasmissione alla televisione svizzera mi era stato detto ricordo dal regista non si preoccupi tanto di quello che dice l'importante è che stia tranquillo questa raccomandazione viene fatta spesso diciamo a chi parla per la prima volta in televisione ed è magari un po' così inturbato magari un po' teso il regista ovviamente non tutti ma qualcuno dice non senza fondamento non si preoccupi di quello che dice stia tranquillo stia calmo stia rilassato quello che conta è il tono possibilmente sorrida e altre cose di questo genere studiosi americani hanno valutato addirittura statisticamente l'incidenza della parola nella oralità del discorso hanno detto che la parola conta addirittura un 7% mentre tutto il resto sarebbe gestualità mimica ambiente situazioni io non credo che questo 7% corrisponda veramente alla presenza della parola all'interno dell'oralità però è abbastanza significativo ecco questo questa posizione come dire estrema probabilmente è la reazione a un altro estremismo cioè all'estremismo di coloro che parlano come se scrivessero spesse volte per esempio intellettuali o anche scrittori intervistati non guardano l'interlocutore parlano in una sorta di vuoto pneumatico una specie di silenzio torricelliano in realtà non stanno dialogando stanno scrivendo mentalmente addirittura certe volte si correggono io arriverei a chiamarli degli scrittori orali posso capire come mai arrivano a queste eccessi in un certo senso proprio per un eccesso di professionalismo della scrittura abituati a scrivere e a correggere hanno in mente il modello scritto anche quando parlano e forse interamente ok le distrutture dobbiamo lasciare un po' di spazio alle domande è molto interessante ma cerco di chiudere chiudo così questo è usare le modalità di linguaggio scritto nella comunicazione orale e tradire la comunicazione orale interrompo allora una conclusione che potremmo arrivare è che un pregiudizio da cui liberarsi è quello di pensare che parlare sia tradurre in parole il nostro pensiero noi parliamo sia con la parola sia con il tono allora un attimo ecco perfetto no aspetta un attimo perché non sento aspetta facciamo interrompiamo la condivisione ok facciamo così no ho interrotto la condivisione sì auto non riesco a interrompere aspettate allora adesso chiudo fai con calma fai con calma sì questa è la ragione niente che allora se chiudi quella finestra del browser dovrebbe spegnersi no niente scusate ma fai con calma Cristiana fai con calma chiudiamo tutto non capisco chiaramente niente non mi sia bloccato il computer e non scusate devo un attimo forse puoi solo abbassare il volume non ci senti aspetta ma tu ci senti no non c'è no non c'è niente niente non c'è Fiere di mezzi che si imponevano profondamente nell'armo degli ascoltatori. Come faccio a interrompere? Accidenti. Non puoi provare a chiudere quella finestra del tuo browser, a chiudere il browser? L'ho chiuso? Niente. Mi vedi? No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ah, ok. Era un altro browser, scusate. Sono un po' fusa. Non ti preoccupare, succede a tutti, siamo tutti fusi in questo periodo. Beh, comunque, vedete, non ho una grandissima dimestichezza con gli strumenti. No, ma nessuno ce l'ha, guarda, anche perché queste comunicazioni a distanza ci spingono a dover usare contemporaneamente molti strumenti e alla fine succede sempre qualche inconveniente. Non sei l'unica, non ti preoccupare. Senti, scusa se ti ho dovuto fare interrompere. Io cercavo da un po' di tempo, ma non riuscivo. Ero imbarazzatissima. Beh, innanzitutto ti ringrazio per la comunicazione, per i contenuti, anche a livello personale, perché è stata, come dire, un'immersione nella storia personale mia e quindi proprio rivivere quegli anni mi ha fatto particolare piacere. Allora, lascio spazio a chi vuole fare osservazioni, domande o commenti anche su questo piccolo frammento ascoltato sulla giustezza di alcune informazioni e, come dire, affermazioni anche sull'ingenuità di altre naturalmente, no? E quindi, non so, siccome qui abbiamo tanti esperti anche di tutti quegli mmm e dei silenzi, se c'è qualcuno che vuole commentare e anche così vedere storicamente come si sono affrontate le cose, la differenza che c'è tra quello che sappiamo e che oggi in qualche misura normale è quello che solo vent'anni fa, venticinque anni fa, era assolutamente non di dominio pubblico. Quindi, non so, l'impressione anche dei giovani presenti. Sì. Diciamo che l'aspetto interessante era che si parlasse di questi temi, ovviamente, in una trasmissione radiofonica rivolta al grande pubblico. è chiaro che c'era una forte, diciamo, ingenuità, poi... No, ma c'erano, insomma, come dire, molte osservazioni assolutamente... Certo, certo, magari basate su letture di quel senso... Però, se non c'è nessuno che ha urgenze, io volevo fare notare due o tre cose. Da un lato... Allora, da un lato, a me, io quegli anni li ho in parte vissuti, non gli anni 60 e 70, ero ancora troppo giovane, però, certamente, dagli anni 80 in poi. Allora, da un lato, mi colpisce l'assoluto iato che esiste tra studi linguistici e opinione degli scrittori. Cioè, è vero che gli studi sul parlato, diciamo, come dici tu, irrompono in quegli anni. Però, non è che non si fosse mai parlato di parlato nel mondo e non è che non ci fosse stato Spitzer, per dire, ecco, no? Tanto per dire uno che poteva essere alla portata degli stori, tanto per dirne uno. Quindi, da un lato, colpisce questa cecità, o meglio, sordità degli scrittori. Mi colpiva allora, e mi continuo a colpire adesso, rileggendo le tue testimonianze, che sembra legata proprio al processo di scrittura. Cioè, sembra legata al fatto che i modelli letterari fossero talmente forti che, diciamo, la difficoltà non era nell'assenza di un italiano quotidiano, che ormai negli anni 80, sebbene a fatica, si era ormai però, insomma, tra gli anni 70 e 80 era affermato, diciamo, non c'era solo l'antilingua, non c'era solo... Eh, tutto, certo. Però sembra proprio una sordità... Non so come... Non ho una parola giusta per dirlo, però c'è proprio un'incapacità di usare la scrittura per ascoltare. Sembra proprio che sono scrittori... Cioè, sembra... E anche la posizione pasoliniana, Pasolini grande, grandissimo, ma in questo è completamente sordo. Cioè, sembrano veramente diglottici. Ecco, sono degli scrittori diglottici, in cui c'è o l'italiano letterario o il dialetto. Allora, c'è come Pasolini una forte, come dire, nostalgia per la perdita della veracità, dell'autenticità, della comunicazione contadina, dialettale, eccetera, e però una certa sordità nei confronti dell'italiano emergente. Le affermazioni di... Pirandello sì che aveva ragione, ma Maraini e Pasolini non avevano ragione. Cioè, sono degli scrittori sordi al reale. Quindi questa è la mia prima... Proprio... Insomma, commento che già allora mi sembrava assurdo, ma l'esto adesso, a tanti anni di distanza, fa impressione, fa proprio impressione, no? Sì. E dall'altro, scusate, come la linguistica si sia abbastanza... La linguistica, perlomeno la linguistica... Non tutta la linguistica, ma un po' di linguistica, abbastanza linguistica, diciamo, si sia richiusa immediatamente. Cioè, non appena ci siamo aperti al parlato, pochi anni dopo, già si è incominciata a parlare di lingua selvaggia, di declino, di... Oddio, quanto era meglio prima! No? E quindi, di nuovo, anche da parte di alcuni linguisti, di molti linguisti, perché poi il modello delle grammatiche... Soprattutto in ambito didattico, ma non solo didattico, rimane fortemente scrittocentrico. E anche lì, adesso a vederlo di nuovo come in un filmato luce, come ce l'hai fatto vedere tu, perché, appunto, ripeto, noi che li abbiamo vissuti... È stato molto bello quello che ci hai fatto vedere. Rivederlo così, a distanza di pochi anni, il libro di Rosanna, Sor Nicola, esce nell'81, secondo me è uno dei più bei libri mai scritti su questo argomento in Italia, sicuramente, e già nei primi anni novanti si parla di lingua selvaggia. E, insomma, santi Dio! Avevamo appena imparato ad analizzare il parlato, a capire come funzionava, che già c'era un riggetto. Sì, un riggetto, sì, un credito di riggetto. Queste due osservazioni che mi vengono in spontanee, immediate, sentendoti, che mi sono venute in spontanee, immediate, non fanno rimpiangere quegli anni. Non fanno rimpiangere quegli anni, da questo punto di vista. Poi, per carità, avevo vent'anni e quindi per sé li rimpiango. No, ma scherzo, al di là delle battute. C'è una certa clima, da questo punto di vista, soprattutto nell'ambiente culturale, una certa cecità, mi pare. Non so che ne pensi. Sì, sì. Da storica della cultura adesso, perché io non sono, come sai, di queste cose, poi sono scientificamente ignorante, cioè nel senso mi sono sempre occupata di altro. però sembra esserci un... appunto, in quel volume, Lingua Selvaggia, Lepsky non è d'accordo e Tullino non scrive. non a caso. E quindi parlo di loro due perché ho studiato con entrambi e perché sono due, come dire, esponenti completamente contrari a questa linea di pensiero. Ma ecco, è un po' impressionante da un certo punto di vista, a tanti anni di distanza. Vero, sì, sono d'accordo. E quello che mi colpisce è che anche, diciamo, quelli più lucidi che hanno appunto, magari, che vedono certi movimenti, alla fine li giudicano con la lente deformante della scrittura. E quindi, per lo meno nella linguistica italiana, per anni si continua a cercare, ad esempio, nei romanzi dei nuovi scrittori, i tratti, i presunti tratti, no, dell'oralità, come se qui i testi fossero un terreno di caccia. Ma anche io poi, chiaramente, ho rivisto tanti studi fatti un po' ingenuamente, no? Come se dovessimo tutti quanti andare a cercare il che polivalente, no, la disarcazione. Allora, un conto, un po' quella sensazione che vi raccontavo, da lettrice giovane che dice, ma guarda, questo libro finalmente è scritto in modo autentico, cioè le persone parlano, ma senza, non in modo basso, ma in modo autentico. E, però, insomma, poi... Sì, ma alle scuole medie, anche io ho letto Marco Baldo alle scuole medie. Dopodiché, certo, certo, infatti, e invece, insomma, poi come lettrice adulta mi sono ritrovata in realtà di fronte, appunto, negli anni Ottanta a scritture completamente, completamente poi diverse, perché comunque negli anni Sessanta c'era stata un'apertura nella scrittura letteraria, un interesse, una capacità di ascolto maggiore, magari, anche nello stesso Pasolini, se n'è un altro, perché c'è la realtà regionale, cioè Pasolini, non è la scrittura, no? Perché, certo, certamente, non è che Pasolini o Calvino scrivano, ma è l'osservazione della realtà. Quando si fanno critici o comunque anche, sì, critici anche, non solo critici letterari, ma anche critici del costume, anche un po' apocalittici a volte, come fa Pasolini, sì, estremizzano questa posizione scrittocentrica, tanto da profetizzare la fine imminente. Sì. Sì. Compre declino, cioè... Sì, è abbastanza impressionante, cioè, mi chiedo, sì, insomma. E poi un'altra cosa, invece, che notavo sui commenti di Pontigia, non linguistici, è quanto è diverso alla televisione, cioè la televisione che aveva lui in mente, che è un po' la televisione, adesso, non sanno assolutamente di che parlo, ma è di Zatterin, vi ricordate le tribune politiche, Claudio, ti ricorderai sicuramente, le tribune politiche di Zatterin, che erano paludatissime, e la televisione di oggi, che certo non potrebbe essere descritta con le stesse parole di Pontigia. Altro silenzio, adesso c'è una velocità del parlato che... se ti interrompi... è la fine, è la fine, è la fine, è la fine, non... no, e poi non si può certo dire che in televisione si parla come si scrive, diciamo, come si dovrebbe, o si potrebbe scrivere, no? Nei telegiornali, oramai, c'è questo modello dell'oralità scritta, sì, era sicuramente una paleo tv. Una paleo tv, veramente, sì, quindi, però, sì, insomma, rivederla oggi. Mi chiedo, sarebbe interessante, e io sono totalmente ignorante su questo, cosa pensano gli scrittori oggi della situazione italiana, cioè della lingua italiana, perché quello che effettivamente allora c'era, era che c'era un grande dibattito. Sì, oggi, a parte le scemenze sulle prove invalsi, io non è che legga molto su questo, non so se tu sei più aggiornata. Sì, diciamo che, per esempio, quando c'è stata la lettera dei 600, a volte si levano delle voci, ma sempre quando c'è da lamentare un presunto declino o la disattenzione verso, diciamo, scritture anche più, letterariamente più ricercate, poi chiaramente ci sono anche scrittori che sono più attenti, però ecco, la cosa che mi colpisce è che anche molti, diciamo, scrittori, ecco, per esempio, l'introduzione è stata scritta da Paolo Di Paolo, che comunque è uno scrittore giovane e anche linguisticamente attento, perché poi conduce anche la trasmissione alla lingua abbatte, sia altri che poi mi hanno appunto restituito delle loro impressioni, sentono come sentono come molto nuove certe, ancora come molto nuove certe affermazioni che noi magari da linguisti appunto sentiamo come frutto di un, invece magari di un'epoca o comunque superate e quindi ho proprio la sensazione che ci sia ancora tanta inconsapevolezza, tantissima, e ancora un bisogno normativo, una paura di, non di sbagliare, ma di incorrere nel giudizio del lettore che ha comunque una formazione da italiano scolastico. Sì, qui sia Anna che Thornton che è presente credo e anche Claudio Iacobini che scrivono per le risposte della Crusca potrebbero dare ampie testimonianze credo di questo bisogno normativo, io non lo faccio ma so che loro appunto insomma appunto le risposte cioè le domande alla Crusca sono numerose credo quindi c'è questo bisogno normativo no ma il bisogno normativo secondo me in sé per sé non è un male certo non è un male e anzi ma quello che mi colpisce è che da parte di un professionista della lingua ci sia questa inconsapevolezza di ciò che è di come parlano gli italiani ecco sì sarebbe interessante fare un nuovo come parlano gli italiani un nuovo però io ecco chiedendo esatto però andando a chiedere non ai linguisti ma esatto sì ai grandi giornalisti agli opinionisti agli scrittori proprio i professionisti della scrittura sì perché poi ci sono comunque delle tendenze che vediamo anche quando ci sono delle polemiche cioè la tendenza è un po' più conservatrice diciamo i locali della loggia non so certo vabbè Mastro Mastrocola lì come si chiama sì Mastrocola o comunque anche diciamo certe posizioni che si possono leggere sul sul domenicale del sole 24 ore che sono diciamo un po' più conservatrici e altre cioè che sono molto più aperte aperte sì sì si potrebbe si potrebbe pensare perché io temo che ci sia ancora l'assenza di sani insegnamenti di linguistica diffusi fa sì che la realtà linguistica del paese sia veramente poco conosciuta nella formazione degli insegnanti è abbastanza evidente la scarsa consapevolezza e l'uso della correzione ancora come strumento di sanzione sì e come strumento di autorità eh sì questo senz'altro scusate non volevo fare un dialogo c'è qualcun altro che vuole intervenire? tutti tutti soddisfatti? tutti contenti? va bene allora io se non ci sono altre domande osservazioni commenti eh ti saluto ti ringrazio ancora eh è stato un vero piacere e ci sentiamo presto speriamo la prossima volta di averti eh fisicamente con noi a Salerno e continuare le nostre chiacchierate e naturalmente ti auguriamo ti auguro e ti auguriamo tutti buona salute prima di tutto ovviamente in questo momento non si può fare altro saluti saluti e saluti e veramente ancora grazie grazie a voi siete stati molto cari grazie allora un applauso diciamo anche a distanza oppure dovremmo fare così come i sordi come in lingua di segni sì siamo adesso un po' ammutoliti grazie ancora Cristiana ciao 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 grazie ciao Claudio ci sentiamo un momento ti chiamo per telefono sì ok io pensavo di avere il microfono scusa io e te ci vediamo domani in ospedale tra un po' ti mando il papiello ok ciao chiudo la riunione arrivederci baci ciao grazie